Come mi dici tu, si sa che mi dici tu, ci può stare sul lavoro di un anno, no? Nel senso che se io a fine mese cambio menu, se io ho dieci porzioni di coniglio che mi sono avanzate, le butto via, capisci? Quindi secondo me quello che possiamo fare adesso è decidere a 18 alla diciannovesima, ricominci da capo, ricominci dal primo giorno. Io però, scusate, tornerei di più su ricette che prevedono il riutilizzo in modo diverso, perché è vero che tu dici mi avanzano 10 porzioni, lo ridò il mese dopo, ma se quella serata... Non è vero come dici tu, no, in che senso ti limita, perché? Il riutilizzo in altro modo, cioè ti lo riconverte, cioè perché allora se tu...